Ciao a tutti, il mio nome è Omar, sono tecnico di radiologia medica e da 15 anni esercito questa professione. Sono specializzato in radiologia diagnostica e soprattutto in risonanza magnetica. Nel corso della mia carriera ho notato molte perplessità e dubbi da parte di alcuni pazienti in merito a quanto viene svolto durante gli esami diagnostici prescritti dai medici. Per questo motivo ho deciso di creare questo canale informativo. La mia intenzione è quindi di spiegare in modo semplice ma non banale i numerosi aspetti che contraddistinguono questa professione, gli esami radiologici e in particolare quelli specifici che vengono eseguiti con la risonanza magnetica. Il canale è dedicato a tutte le persone interessate e a coloro che si sono già sottoposte o si devono sottoporre a questo tipo di prova e vogliono fare chiarezza su questo tema, affrontando così più serenamente un esame che per alcune persone può risultare stressante. Una maggiore informazione può permettere alla persona interessata ad affrontare in modo più consapevole un eventuale consulto o accertamento in un centro radiologico. Per facilitare la ricerca di informazione nel limite del possibile tratterò un argomento per video. Se la mia tematica può sembrarti interessante ed utile iscriviti al mio canale o lascia un commento. Se il video ti è piaciuto clicca su mi piace. Grazie. Grazie.